E' stato recuperato a tarda notte il cadavere di un giovane che domenica sera è annegato nelle acque di Punta Bianca da Grigento. La vittima è Raimondo Di Malta, 25 anni, originario di Lampedusa e residente nel capoluogo a Grigentino. Il corpo è stato portato sulla banchina di Porto Empedocle dove è avvenuto il riconoscimento. Il giovane, assieme ad altri due amici, era andato a Punta Bianca per fare un bagno il primo della stagione. I tre si sono allontanati a nuoto e hanno raggiunto uno scoglio distante circa 200 metri dalla costa. L'acqua era gelida e il giovane, a quanto pare, si è sentito male. Mentre gli altri due amici sono riusciti a raggiungere nuovamente la riva, Di Malta ha cominciato ad annaspare, scomparendo nelle acque di Punta Bianca. Sono subito scattate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria e della Guardia di Finanza per ritrovare e mettere in salvo il disperso, ma ogni sforzo purtroppo è stato vano.